Un off-site du champ per la seduzione della copia Un posto dove veniamo tutti sul kumbu-fudurismo Perché il fattore basse poi successivamente Tutti gli artisti kumbu-fuduristi si ispireranno proprio nella seduzione Un off-site Un'ệmone Non gli scrispiti Un'ệmi Un'ệmi Sino anche i scrupi Un'ệmi Un'ệmi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.